. Anticipazioni Uomini e donne, Gemma e Giorgio sono tornati insieme. . Uomini e donne anticipazioni, ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio? Ecco cosa succederà. . . Pubblicità e la video Google ricorre contro la multa della Commissione Europea va con mencera pres le messagge pubblicità IRE. Spoiler Uomini e donne, è ancora amore tra Gemma e Giorgio?. . Possiamo svelarvi, infatti, che Gemma dopo aver provato a tenere alla larga Giorgio, dicendo di essere stufa delle sue promesse da marinaio e del fatto che con il suo modo di fare sembra volerla prendere in giro, è ritornata di nuovo su suoi passi e ha sorpreso nuovamente il cavaliere toscano facendogli lennesima sorpresa in camerino. . . Questa volta Gemma ha voluto sorprendere il Gabviano facendogli trovare tutte le fotografie della loro intensa storia damore, suscitando ovviamente una forte emozione in lui. . Del resto Giorgio non ha mai nascosto il fatto che Gemma sia stata la dama più importante tra quelle che ha conosciuto a Uomini e Donne nel corso di questi anni. . Tuttavia questa cosa non gli ha fatto cambiare idea circa la sua decisione di voler voltare pagina in maniera definitiva e di andare avanti, provando a conoscere nuove dame e quindi dando una svolta alla sua vita sentimentale. . . . . . . . . .